Un inizio di giornata sottotono per Mila Suarez. La modella, ex di Alex Belli, è scoppiata in lacrime prima in giardino e poi in camera al grande fratello Sconsolata la concorrente del reality non è riuscita a evitare di piangere. Un momento di crisi per la modella arrivato forse dopo aver ascoltato una canzone Non è escluso che dietro le lacrime della ragazza si nasconda il suo passato. Mila Suarez ha pianto per Alex Belli. La modella non ha ancora svelato i suoi compilini cosa l'abbia buttata così giù di morale in queste ore, non è escluso però che la ragazza pensi ancora all'ex In questi primi due giorni di reality la modella ha parlato spesso di Alex Belli, raccontando la fine della loro storia d'amore e la delusione trovata quando l'ex ha trovato subito una nuova compagnia Mila Suarez pensa ancora ad Alex Belli. L'indizio al grande fratello 16.Il crollo emotivo di Mila Suarez di questa mattina potrebbe essere dovuto ad Alex Belli La storia d'amore con l'attore di cento vetrine ha segnato profondamente la modella che, a distanza di tempo, continua a pensare In questi primi giorni di reality la ragazza si è avvicinata molto a Gennaro, tanto da far pensare che al grande fratello 16 fosse nata la prima coppia Nonostante la simpatia per l'indica, la modella non è riuscita a ritrovare il sorriso questa mattina In molti però si aspettano che presto l'amicizia speciale con Gennaro possa trasformarsi in qualcosa di più Anche Jessica Mazzoli è confessato al ragazzo di vedere Mila molto presa d'amore Resta il fatto che dopo appena due giorni dall'inizio del grande fratello, il reality ha già messo in crisi diversi concorrenti Ieri Modri è scoppiata in latino in un camping carmelita pensando proprio al suo passato ed è stata rincolata da Daniele Evita La serata, con la riunione dei concorrenti, ha permesso poi alla ragazza di trasformare delle ore di serenità insieme agli altri concorrenti, dimenticando le latrime del pomeriggio Grande fratello 16, primo trolli emotivi per i concorrenti della reality.Oltre a Mila su Alice, per cui ieri Alex Belli ha fatto una battaglia, e Odri in queste ore anche altri concorrenti del GF16 hanno avuto trolli emotivi Ivana Icardi non ha nascosto la commozione pensando al fratello, ma anche Jessica Mazzoli si è lasciata andare alle emozioni al grande fratello La ragazza infatti è scoppiata in lacrime pensando alla figlia, Lumi. L'ex di Morgan ha ammesso di sentire molto la mancanza della piccola dalla quale non si separa mai